Il concilio pan-ortodosso è una cosa che viene preparata da 50 anni, nel 61, quando una conferenza a Rodi lanciò questa idea in concomitanza con l'annuncio del Vaticano II nella Chiesa Cattolica. Il 2008 era stato convocato per la Pentecoste di quest'anno e a gennaio la Sinassi dei Patriarchi, la riunione dei capi delle 14 Chiese Ortodosse, aveva stabilito che il concilio si facesse a Creta, cioè non in Turchia, a Costantinopoli, come era stato pensato, per non mettere in imbarazzo i russi. Recentemente, nelle ultime settimane, alcuni dei patriarchi che parteciparono dalla Sinassi e convocaro del concilio hanno domandato un rinvio, chiedendo di poter ridiscutere e riflettere ancora su alcuni documenti che dovevano essere discussi al concilio. Una responsabilità enorme e molto complicata perché nessuno può decidere della Chiesa Ortodossa al posto della Sinassi dei Patriarchi, che poi, paradossalmente, per rinviare il concilio bisognerà aprire il concilio e farlo rinviare al concilio medesimo. Il che si dimostra è che anche questo concilio pante-ortodosso, come tutti i grandi concili, non nasce come un fiorellino, ma nasce in un parto difficile nel quale si scontrano grandi speranze, grandi ambizioni, grandi tensioni, nelle quali le Chiese devono dimostrare la loro docilità allo spirito. Quali saranno le ricadute sul dialogo ecumenico e, in particolare, sul rapporto con Roma? La comunione fra la Chiesa di Roma e le Chiese d'Ortodossia ha conosciuto dei progressi sbaloroditivi negli ultimi decenni. Al tempo stesso, però, il papato, che è stato capace di essere un fattore di comunione non solo con le Chiese ortodosse, ma fra le Chiese ortodosse, si troverà oggettivamente in una grande difficoltà nel momento in cui la posposizione del concilio, addirittura la cancellazione del concilio, dovesse far affiorare in modo drammatico una spaccatura insanabile fra Mosca e Costantinopoli. Il papa non può scegliere i suoi fratelli. Sono fratelli quelli che hanno una tradizione apostolica, come hanno tutte le Chiese d'Ortodossia, e in questo cammino c'è qualche cosa che ha un significato per loro infungibile. Ma questo vale anche non solo per i rapporti infrecclesiastici, vale per tutto. Il concilio ha un significato, o aveva un significato, soprattutto perché in un mondo in cui tutto, comprese le religioni e soprattutto le religioni, sono fattore di lacerazioni sanguinose all'interno del mondo, il fatto che le Chiese sapessero trovare un cammino di unità, a partire dalla loro vicinanza, aveva un valore politico di carattere generale. Se questo andasse perduto sarebbe una tragedia non solo per l'Ortodossia, ma per tutti i cristianesimi e per l'intero pianeta.